Allora, in Tommaso d'Aquino l'antropologia è molto importante perché è molto equilibrata. L'uomo è unità di anima e di corpo. L'uomo non è la sua anima, l'uomo è l'unità di anima e di corpo. L'anima è di natura razionale, è quindi riducibile al corpo, ma è principio di vita del corpo. L'anima si comporta con il corpo per modo di forma con la materia. L'anima è per modo di forma e il corpo è per modo di materia. L'anima è l'atto primo di un corpo che ha la vita in potenza. L'anima quindi è principio di vita. L'anima si esprime con la cognizione e con il movimento. L'anima razionale quindi, l'anima umana e razionale, informa il corpo per modo di forma con la materia e lo rende un corpo vivo, dotato di vegetatività e di sensibilità esterna e interna. Tutto l'uomo, tutto il corpo, in quanto informata da un'anima razionale, è preordinato alle operazioni di quest'anima razionale. Il corpo umano quindi non è semplicemente il corpo di un animale, ma il corpo di un uomo in funzione della razionalità che lo informa. L'anima razionale non esaurisce però la sua portata nell'informazione del corpo, ma trascende questa informazione del corpo con le potenze spirituali di intelligenza e di volontà. Quindi l'anima razionale informa il corpo, ma trascende anche questa informazione, non si esaurisce in questa mera informazione e presenta questa inesauribilità con le facoltà spirituali dell'intelligenza e della volontà. Quindi l'anima è l'atto primo che comporta, che possiede delle potenze attive o facoltà sensibili o spirituali, potenze attive che si attualizzano, realizzano in atti secondi, ovvero nelle operazioni. Questi atti secondi, quindi queste operazioni, sono possibili grazie a queste facoltà spirituali e sensibili che si radicano nell'anima come atto primo, come realtà prima fondante. L'anima quindi è principio non solo dell'informazione del corpo, ma anche della cognizione intellettuale e dunque, in quanto tale, in quanto trascendente il corpo, è sussistente e di per sé stessa indipendente dal corpo, anche se l'uomo è caratterizzato da questa unità di anima e di corpo, che conserva anche con la resurrezione. L'anima però, nella sua spiritualità, è quodammo d'omnia, in qualche modo tutte le cose. Infatti conosce la natura di tutti i corpi e non è legata a nessun organo corporeo, seppur l'anima razionale umana informi anche il corpo. Quindi l'anima è incorporea e immateriale, è inestesa, è forma spirituale e va quindi ad attualizzare il corpo, a dare la vita al corpo. L'uomo quindi è quell'unità indissolubile tra anima e corpo. Laddove il corpo è la componente sensibile, l'anima è la componente spirituale, che informa il corpo, rendendolo vivo, ma anche trascende questa informazione, presentando quindi le due facoltà spirituali dell'intelletto e della volontà. L'anima è la forma sostanziale del corpo, cioè dà all'uomo, unità di anima e di corpo, il suo specifico modo di essere. La forma sostanziale è ciò che dà una cosa e il suo specifico modo di essere. L'intendere è infatti distintivo della specie umana. L'anima quindi è forma sostanziale del corpo, in quanto dà al corpo il suo specifico modo di essere, il modo di essere umano. Ogni singolo uomo ha un suo specifico intelletto, controvero è, dice Tommaso d'Aquino. L'intelletto agente di ogni singolo uomo, relativo alla sua spiritualità, rende l'intelletto in potenza, intelletto in atto. Quindi l'operazione intellettiva si radica su quell'anima razionale, che è appunto atto primo, che si estrinseca attraverso delle potenze attive o facoltà, come abbiamo visto, adatti secondi a specifiche operazioni. L'intelletto è una di queste e l'intelletto agente è un'operazione propria di ogni singolo uomo. L'anima intellettiva contiene in sé i principi e le potenzialità dell'anima vegetativa e di quella sensitiva, già che, dice Tommaso d'Aquino, il superiore contiene l'inferiore. Ecco che l'anima razionale umana può informare il corpo, dargli vita secondo sensibilità e vegetatività, ma anche trascende questa informazione presentando le facoltà spirituali dell'intelletto e della volontà.